Benvenuti su un messaggio e preghiera di potere e ricevi un abbraccio e un cordiale saluto da questo tuo servo, preparati a manifestare ricchezza e abbondanza con questo suono potente. Potrai ascoltarlo a un volume basso, ma chiaramente udibile per almeno un'ora al giorno e per un periodo da tre settimane a tre mesi. Parla mentalmente e scrivi la parola ricchezza o la parola Amen nella casella dei commenti. Cominciamo Tu sei la fonte della tua prosperità e da questo momento in poi tutto ciò che tocchi si trasforma in oro. Possa la ricchezza infinita essere sempre tua, qui e ora. Così è e così sarà. Grandi quantità di denaro scorrono verso di te, come l'acqua che trova sempre la sua strada esiste solo l'espansione, l'espansione continua, dove ciò che hai oggi viene moltiplicato non ci sono limiti né barriere. Prova una profonda gratitudine per questo momento. questa realtà non è un futuro lontano, è il tuo presente. questo è quello che sei già, quello che sei sempre stato. Lascia che questa gratitudine ti travolga, ti elevi e ti connetta all'essenza stessa dell'universo, un universo infinitamente abbondante. Respira profondamente. Mentre inspiri, attira più di questa energia di ricchezza verso di te. Mentre espiri, rilascia ogni traccia di dubbio, paura o mancanza. Non ti appartengono più, ti appartiene solo l'abbondanza. Prosperità infinita. Ora, a ogni respiro, inizia a tornare lentamente nella stanza in cui ti trovi, sapendo che non rinuncerai a questa esperienza. Questo flusso di ricchezza ti accompagna sempre. ogni volta che lo invochi senti i tuoi piedi per terra, le tue mani posate delicatamente e, quando sei pronto, apri gli occhi con l'assoluta certezza che tutta la ricchezza e l'abbondanza che hai visto e sentito è già la tua realtà. e che sia sempre così. Amen. Grazie a tutti. 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 Benvenuti su messaggio e preghiera di potere. Grazie a tutti. E ricevi un abbraccio e un cordiale saluto da questo tuo servo. Preparati a manifestare ricchezza e abbondanza con questo suono potente. Potrai ascoltarlo a un volume basso ma chiaramente udibile per almeno un'ora al giorno e per un periodo da tre settimane a tre mesi Parla mentalmente e scrivi la parola ricchezza o la parola Amen nella casella dei commenti Cominciamo Tu sei la fonte della tua prosperità e da questo momento in poi tutto ciò che tocchi si trasforma in oro Possa la ricchezza infinita essere sempre tua, qui e ora Così è e così sarà Grandi quantità di denaro scorrono verso di te Come l'acqua che trova sempre la sua strada Esiste solo l'espansione, l'espansione continua Dove ciò che hai oggi viene moltiplicato per domani Non ci sono limiti né barriere Prova una profonda gratitudine per questa realtà Non è un futuro lontano, è il tuo presente Questo è quello che sei già, quello che sei sempre stato Lascia che questa gratitudine ti travolga Ti elevi e ti connetta all'essenza stessa dell'universo Un universo infinitamente abbondante Respira profondamente Mentre inspiri, attira più di questa energia di ricchezza verso di te Mentre espiri, rilascia ogni traccia di dubbio, paura o mancanza Non ti appartengono più Ti appartiene solo l'abbondanza Prosperità infinita Ora, a ogni respiro Inizia a tornare lentamente nella stanza in cui ti trovi Sapendo che non rinuncerai a questa esperienza Questo flusso di ricchezza ti accompagna sempre Ogni volta che lo invochi Senti i tuoi piedi per terra Le tue mani posate delicatamente E quando sei pronto Apri gli occhi con l'assoluta certezza Che tutta la ricchezza e l'abbondanza Che hai visto e sentito È già la tua realtà E che sia sempre così, Amen E che sia sempre così, Amen E che sia sempre stato Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. ti. a tutti. 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 tu. qui. a tutti. 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 ti. ti. a tutti. ti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti. 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 a 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 tutti.